bene tavola 53 facciamo la semplice prospettiva di un volume che simona un po un piccolo edificio quindi con diciamo due falde due falde inclinate di cui questa vista questa nella vista dall'alto questa centrale sarebbe la linea di colmo in queste due laterali linee di gronda che sono più basse rispetto alla linea di colmo diciamo così l'operazione da fare abbastanza semplice conosciamo già tutte le regole così come abbiamo visto nelle tavole precedenti la prima cosa che faremo troveremo le tracce e le fughe di questo piccolo edificio quindi come sempre hanno le dimensioni sono 5 metri e la lunghezza e la larghezza la linea di colmo sta un metro e cinquanta dalla gronda sia a destra che a sinistra ovviamente e allora la prima cosa che faremo troveremo le tracce e le fughe come sempre utilizzato due colori differenti il verde per le tracce e il magenta per le fughe le tracce ricordo è il prolungamento delle delle linee contenenti segmenti fino alla linea di terra le fughe sono le parallele alle linee che a noi servono passanti per il punto di vista e che arriveranno alla linea dell'orizzonte ovviamente come abbiamo detto ormai molte volte tutte le linee parallele hanno la stessa fuga per cui nel caso della nostra figura le fughe totali saranno due le parallele lungo questo verso quindi che saranno una due tre avranno la stessa fuga questa le parallele nell'altro verso questa e questa che avrà un'unica fuga che è questa che troviamo qui sulla destra allora il passaggio successivo sarà quello come sempre di riportare nel disegno nella parte alta del nostro foglio quindi nel piano della prospettiva le tracce e le fughe allora le tracce saranno sulla linea di terra e le fughe nella linea dell'orizzonte questo come abbiamo sempre fatto passaggio successivo ingrandisco un pochino sarà quello di appunto unire le tracce con le fughe vediamo che già nel piano della prospettiva è visibile quale sarà diciamo così impianta la forma del nostro piccolo edificio i passaggi successivi li conosciamo allora tireremo le verticali per una misura per adesso indefinita perché l'unica cosa che sappiamo appunto è che le linee verticali sono parallele tra di loro in quanto il quadro il piano della prospettiva è perpendicolare al piano di terra di questa cosa ne abbiamo parlato in passato dopodiché ci ricordiamo ricordiamoci che dobbiamo andare a prendere le altezze reali nella linea di terra per cui questa linea che parte da questo punto di traccia e arriva a questo punto di fuga siccome questa faccia è alta 350 l'altezza reale la prendiamo sul punto della traccia quindi qui tireremo su una verticale di 350 la faremo convergere alla fuga in quanto appunto questa linea e questa sotto nella realtà sono parallele tra di loro quindi abbiamo già individuato di fatto la faccia che c'è dietro facciamo la stessa cosa per il punto di colmo che sarà di 4 metri di 4 centimetri scusate quindi portiamo anche qui dalla traccia 4 centimetri e lo portiamo alla linea di fuga è chiaro che qui bisogna stare un pochino attenti perché in questo caso le due linee sono molto vicine tra di loro facciamo la stessa cosa dall'altra parte quindi 350 come abbiamo visto precedentemente quindi a questo punto abbiamo di fatto già visto come sarà il nostro solido e cominciamo a ripassare le linee allora ripassiamo prima la diciamo così la faccia frontale del nostro edificio dove sono ben visibili le due rette inclinate delle falde quindi li ripassiamo tra di loro è chiaro e questa linea di questa linea inclinata ma a questo punto non ci interessa conoscere quale sia quale sarà la fuga quale sarà la traccia perché la troviamo unendo i due punti quindi il punto intersezione con la linea di gronda con il punto intersezione della linea di colmo e la stessa cosa dall'altra parte faremo quindi la facciata laterale che è ben chiara e visibile di fatto è come abbiamo già fatto per soliti senza inclinazione allo stesso modo realizzeremo le due linee inclinate del fondo dell'edificio e completeremo con la parte di fatto quasi tutta nascosta però in realtà non è nascosta perché per poco i due segmenti sono visibili altrimenti se il colmo avesse coperto la gronda questa l'avremmo dovuto fare tratteggiata però invece facciamo tratteggiati due spigoli i tre spigoli che sono dietro al nostro edificio quindi questo di fatto è il disegno completo riprendiamo una vista diciamo così insieme ecco chiaramente adesso che utilizzati i colori il disegno finale sarà senza colori ma con i tratti con i vari spessori quindi ricordo a tutti che le linee del disegno finale le tracceremo con la matita f e le altre linee con la 2h quindi con la f dovremo disegnare il solido finale comprensivo degli spiccoli tratteggiati e il solido visto nel piano della pianta quindi sarebbe di fatto una proiezione ortogonale dall'alto